Sì, complimenti ai carabinieri di Castenza Don Giovanni che sono intervenuti nell'immediatezza della rapina, hanno subito avviato i conseguenti accertamenti in un'attività di indagine che ha dimostrato grande capacità professionale e soprattutto una costante presenza sul territorio dell'arma dei carabinieri nella compagnia di Piacenza che ha permesso di poter risalire agli autori di questa rapina entro 24 ore. E' stato trattato di un colpo particolarmente violento? Sì, purtroppo la signora quasi settantenne ha tentato di opporre resistenza allo strappo della borsa da parte di questo rapinatore che comunque l'ha trascinata per un paio di metri a terra provocandogli forti escoriazioni e la frattura multipla del collo omerale quindi della spalla sinistra dove era la tracolla della borsa.